Eccoci qua ragazzi, dopo aver già dipinto sul cofano di una mia macchina, questa volta è il turno della mia Audi S1 Sportback 2017 Quindi andrò a fare un piccolo disegno sul cofano, ma non preoccupatevi perché dove disegnerò il cofano sarà rivestito con una pellicola PPF Quindi non andrò a dipingere direttamente sulla vernice e sulla macchina e non si rovinerà nulla Nel momento in cui rimuoverò la pellicola sarà come prima e non ci sarà nessun danno, segno o graffio Quindi state tranquilli, adesso andiamo a disegnare Come dicevamo ragazzi, il cofano è rivestito con una pellicola PPF, la solita pellicola trasparente, quella per evitare che si rovini le vernice con sessate e cose così Quindi andate tranquilli, anche io disegno su questa pellicola e nel momento in cui andrò a togliere tutto non avrò nessun segno, graffio Io comunque non avrò rovinato niente Ecco ragazzi che abbiamo appena finito di fare le saguane del nostro disegno Questa volta ho optato per Mickey Mouse e Minnie Dai che è uscito carino Adesso andremo a rifinire il tutto e poi sarà completato Yeah 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 Wow La realtà Una differente Grazie a tutti Bene, abbiamo finito il mini Adesso tocca Mickey Mouse Grazie a tutti Grazie a tutti Finalmente abbiamo finito anche Mickey Mouse Qua Mickey Mouse Carino dai Non è uscito male alla fine Grazie a tutti Grazie a tutti